Cazzo, comunque la torresa non c'è mai, ho questa 25 gol, sotto il pondo io sono voluto. Battle Royale, indica un punto di lancio per il team. Gas diretto verso di voi, è meglio se vi spostate. Merda. Zona di lancio, segnalata, pronti allo schieramento. Se vai sotto il pondo c'è la sacca. Bene, gente, diamoci da fare. Mondato nemico in arrivo. Ristaglio marcato. L'ho sentito. C'era la masca. Breccato quello sul tetto. Ok E io provo ad andare alle armi Un team nemico vi dà la caccia, occhi aperti Sì, ancora per poco Sì, sì, vieni, vieni con me Per ora sì E io provo ad andare a fare l'intragniatrice leggera trova Se non li usi, mi dai con l'assalto L'intragniatrice leggera trova ah ah mi posso portare l'obiettivo boh vogliono adesso che stanno andando a portare ma porco stai perdendo terreno eh no 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 dai razzie ok sono spostati un po' siamo tutti nella zona io vado avanti no per oggi quella minaccia è qua sotto di noi praticamente è una lamposera devo andare sull'alto vicino chiudiamo messi in mano qui c'è un bersaglio che cazzo è sul schecchio? che cazzo è salito? stato nemico a vederlo l'ho visto avendo seminato gli inseguitori ma no c'è sempre quel coglione là che cazzo è salito grande uno è sul scherzo l'altro l'altro prendi due che cazzo è salito contratto annullato è finita dimmi che l'avevano morto lì mi ha annientato ma che cazzo ha? hanno aumentato il danno della caff qua c'è lui dai cazzo ce n'è uno in casa? breccato breccato ok 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 è che abbiamo la falla secondo me venditori a mercato venditori a mercato ecco qui si potrebbe fare ok 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 andiamo se riesce a resistere forse sì pensi ci siano ancora sono in due? abbiamo buttato 11.000 dollari dalla merda abbiamo un lancio di equipaggiamento in arrivo compagno finito nel gulag torna in prima linea benvenuti nel gulag chi sopravvive conquista la libertà scontro il rosso puoi sfogarti su quei bastardi mentre aspetta mamma mia mi hanno lasserato con qualche insulto ben piazzato o meglio ancora prendili a sassate pronti allo scontro prepara questo battere sei il prossimo vinci questo scontro e torni in prima linea perdi e per te è finito ma non c'entra il gulag ho conquista l'obiettivo ok pericolo scappato è acconciato per le feste ti rispediamo alla base eeeeh 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 Dove l'hai ragazzi? Dove vanto? Appunto si è vero Lì sono morto, ora forse mi rianima siamo 40 team, 65 persone in vita e basta Sbloccate Umbro Abbiamo già sbloccato Umbro Sì, tanto se muore Gibbo abbiamo finito Se non muore forse continuerà per poco Noi stiamo facendo una bella partita Ma anche noi stiamo facendo delle belle partite però Dio buono Allora M13 Tolgo il calcio Sì, la differenza Eh ma cosa tolgo? Aspetta Eh Eh Dove il tocco del carico di munizioni Venditore marcato Sì 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 Vado dalle armi qui Qui c'è una corazza E' per caso delle munizioni? Non me ne servono tante ma servono almeno un caricatore perché ci sono altri 30 colpi Poi non so se hai anche colpi del cecchino ancora meglio Ah tra l'altro io ho risposta eccessiva Gassi in arrivo spostamento della zona sicura 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti.